Benvenuti al nostro aggiornamento settimanale sulle principali notizie finanziarie globali. Oggi analizzeremo i temi più rilevanti che stanno influenzando i mercati, con un focus particolare sulle implicazioni per investitori istituzionali e operatori del settore. Notizie principali. Il rallentamento della crescita economica globale è uno degli aspetti più preoccupanti per i mercati finanziari internazionali. Secondo l'ultimo rapporto del Fondo Monetario Internazionale, la crescita globale per il 2024 è stata rivista al ribasso al 2.9%, un calo rispetto al 3.2% del 2023. Questo rallentamento è attribuito a una combinazione di fattori che stanno influenzando le principali economie mondiali, con un focus particolare su quelle emergenti. La Cina, che è stata a lungo il motore della crescita globale, sta vivendo una significativa decelerazione. Le politiche di contenimento della pandemia, seguite da un cauto allentamento, hanno portato a un calo della domanda interna. Inoltre, il settore immobiliare cinese, che rappresenta una quota importante dell'economia, sta affrontando una crisi di liquidità, con diversi sviluppatori in difficoltà finanziaria. La conseguente riduzione degli investimenti in infrastrutture ha ulteriormente frenato la crescita. L'India, nonostante una crescita ancora positiva, sta affrontando sfide legate all'inflazione e alla gestione del debito pubblico. L'aumento dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of India per contenere l'inflazione ha ridotto la liquidità disponibile per gli investimenti, mentre l'aumento del costo delle materie prime, soprattutto l'energia, ha eroso i margini delle imprese. Economia globale Sul fronte globale, l'incertezza legata alle tensioni geopolitiche, tra cui il conflitto in Ucraina e le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, sta pesando sulle prospettive economiche. Questi fattori stanno alimentando una fuga verso asset più sicuri, riducendo i flussi di capitale verso le economie emergenti e aumentando la volatilità nei mercati finanziari. Il rallentamento della crescita aumenta il rischio di recessione in diverse economie. Questo scenario spinge gli investitori a cercare rifugio in asset considerati sicuri, come i titoli di Stato dei Paesi sviluppati. La domanda per i titoli del Tesoro USA, in particolare, è aumentata, contribuendo a un appiattimento della curva dei rendimenti. Le aspettative di crescita più basse stanno portando a una rivalutazione delle prospettive per i mercati azionari, soprattutto nei settori ciclici come la tecnologia, i beni di consumo discrezionali e l'industria. Gli investitori stanno rivedendo le valutazioni e i multipli di prezzo, considerando le prospettive di minore crescita degli utili. Il rallentamento globale sta rafforzando il dollaro USA, considerato un porto sicuro in tempi di incertezza. Questo rafforzamento del dollaro sta creando pressioni sulle economie emergenti che detengono gran parte del loro debito in dollari, aumentando i costi del servizio del debito e il rischio di default. La politica monetaria restrittiva della Federal Reserve continua ad avere un impatto significativo sui mercati finanziari globali. Nell'ultimo incontro del Federal Open Market Committee, la Fed ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il tasso sui Fed Funds al 5,50%, il livello più alto dal 2001. Questo aumento è parte di una strategia continua per combattere l'inflazione, che negli Stati Uniti rimane persistentemente alta rispetto al target del 2%. Inflazione persistente Nonostante un rallentamento nei tassi di inflazione rispetto ai picchi del 2022, l'inflazione core, che esclude alimenti ed energia, rimane elevata. I costi dei servizi, in particolare, continuano a crescere a un ritmo sostenuto, alimentati da un mercato del lavoro ancora rigido e da una domanda interna resiliente. La Fed ha chiarito che la lotta all'inflazione rimane la priorità assoluta, anche a costo di rallentare l'economia. Il presidente Jerome Powell ha sottolineato che ulteriori rialzi dei tassi non sono esclusi se i dati economici dovessero mostrare una ripresa dell'inflazione. Questo approccio sta preparando il mercato a un periodo prolungato di tassi di interesse elevati, un fenomeno che non si vedeva da decenni. Effetti sui mercati finanziari L'aumento dei tassi di interesse sta avendo un impatto diretto sui costi di finanziamento. Le aziende con rating creditizi inferiori stanno affrontando costi di rifinanziamento molto più alti, il che potrebbe portare a un aumento dei default nel settore del debito high yield. Inoltre, il mercato dei mutui immobiliari è stato particolarmente colpito con un forte calo nelle nuove domande di mutuo e un rallentamento del mercato immobiliare. Gli investitori stanno spostando capitali dai mercati azionari verso obbligazioni e titoli di Stato, attratti dai rendimenti più elevati offerti dai titoli governativi. Questo sta creando una pressione a ribasso sui mercati azionari, con una rotazione dai settori ad alta crescita, come la tecnologia, verso settori più difensivi, come l'energia e i beni di consumo di base. La curva dei rendimenti continua ad appiattirsi e, in alcuni casi, a invertirsi, un segnale spesso visto come precursore di una recessione. L'inversione della curva dei rendimenti a breve e lungo termine indica che gli investitori si aspettano un rallentamento dell'economia e un potenziale taglio dei tassi di interesse da parte della Fed nel medio termine. Strategie di investimento Gli investitori stanno aumentando l'esposizione verso asset difensivi, come le utilities e le telecomunicazioni, settori che tendono a performare meglio in un contesto di rallentamento economico e tassi di interesse elevati. In un contesto di tassi in aumento e mercati volatili, mantenere una maggiore quota di liquidità può offrire flessibilità per cogliere opportunità di acquisto quando i mercati azionari correggono. Con i rischi macroeconomici in aumento, la diversificazione globale assume un'importanza ancora maggiore. Investire in asset denominati in valute diverse dal dollaro, come l'euro o il franco svizzero, può offrire una certa protezione contro il rischio di cambio e l'incertezza macroeconomica negli Stati Uniti. Notizie di coda Un altro tema cruciale riguarda la ristrutturazione del debito sovrano dell'Argentina. Il governo argentino ha recentemente raggiunto un accordo preliminare con il Fondo Monetario Internazionale per ristrutturare una parte significativa del debito estero, pari a circa 44 miliardi di dollari. Questo accordo include un'estensione dei termini di pagamento e una riduzione dei tassi di interesse, ma richiede severe misure di austerità fiscale e riforme strutturali. La situazione dell'Argentina rimane estremamente fragile, con un'inflazione superiore al 100% annuo e riserve valutarie in costante calo. Gli investitori detentori di bond argentini stanno affrontando una perdita significativa in termini di valore nominale, con i prezzi dei bond che hanno subito un forte depreciamento, scambiandosi a livelli distressed, intorno al 30-40% del valore nominale. La ristrutturazione, sebbene necessaria, non risolve i problemi strutturali del paese, lasciando aperti i rischi di ulteriori default in futuro. Un altro argomento di interesse è l'espansione del blocco dei BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, che ha recentemente annunciato l'intenzione di includere nuovi membri come l'Arabia Saudita e l'Iran. Questa espansione mira a rafforzare il peso geopolitico e finanziario dei BRICS nel contesto di un sistema finanziario globale sempre più multipolare. L'impatto di questa espansione potrebbe essere significativo per il sistema finanziario globale, soprattutto in termini di diversificazione delle riserve valutarie e delle linee di credito. I BRICS stanno lavorando per sviluppare un sistema di pagamento alternativo al SWIFT, basato sulle proprie valute, al fine di ridurre la dipendenza dal dollaro USA. Questo potrebbe portare a una diminuzione della domanda globale di dollari e a un riallineamento degli equilibri finanziari internazionali, con implicazioni importanti per i mercati emergenti e per la politica monetaria globale. Infine, il mercato delle criptovalute continua a essere un tema caldo, soprattutto in relazione alla crescente regolamentazione e all'adozione istituzionale. Recentemente, la SEC ha intensificato la sua attenzione sulle piattaforme di trading di criptovalute, imponendo nuove regole di conformità e avviando azioni legali contro alcune delle principali borse per presunte violazioni delle normative sui titoli. Parallelamente, si osserva un crescente interesse da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali verso le criptovalute, con l'approvazione di ETF su Bitcoin e altre criptovalute da parte di diverse autorità di regolamentazione. Questo doppio binario di maggiore regolamentazione e crescente adozione istituzionale potrebbe portare a una maggiore stabilità del mercato, ma anche a una polarizzazione tra criptovalute regolamentate e non regolamentate. In sintesi, le dinamiche attuali mostrano un mercato finanziario globale in continua evoluzione influenzato da politiche monetarie restrittive, ristrutturazioni del debito sovrano, cambiamenti geopolitici e innovazioni tecnologiche nel settore delle criptovalute. Gli investitori devono rimanere vigili e pronti a rivedere le loro strategie in risposta a questi sviluppi. Grazie per averci seguito in questo aggiornamento settimanale. Continuate a seguirci per ulteriori approfondimenti e analisi sui mercati finanziari globali.